una moneta di carta una moneta di carta si, a lei un'altra una moneta antica dollaro, dollaro di carta, è vero? ancora, ce l'ha ancora una moneta di carta una moneta di carta si, a lei un'altra una moneta antica dollaro, dollaro di carta, è vero? comunque ce l'ha ancora addirittura mi sembra che sia anche un dollaro guarda, guarda, guarda no, no, no no, no no, no 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 tanti voi che li vendete bene che sono dollari antichi come adesso? non è un dollaro sembra dai acqua lì usciana prendi per favore quello lì con la carta lo apri un dollaro c'è anche una scritta non è un dollaro è un dollaro non è un dollaro è un dollaro non è un dollaro